Grande Fratello 2018, cambia la programmazione Ecco quando sarà trasmesso Anticipazioni Grande Fratello 2018, ecco come cambia la programmazione del reality. Cambia la programmazione del Grande Fratello 2018 su Canale 5 Le anticipazioni ufficiali sul reality show condotto da Barbara D'Urso rivelano che questa settimana cambierà il giorno di messa in onda del reality show, che non sarà più trasmesso di lunedì sera Un colpo di scena per tutti gli spettatori che ovviamente erano già pronti a collegarsi alle 21.30 circa su Canale 5 per seguire la quarta puntata in diretta tv ma rimarranno delusi. La nuova programmazione del Grande Fratello 2018 Da questa settimana, infatti, le nuove puntate del Grande Fratello 2018 non andranno più in onda di lunedì sera ma saranno trasmesse di martedì sera, sempre in prime time Un cambio programmazione che in un certo modo renderà contenta Barbara D'Urso dato che in questo modo le è stata evitata la sfida super agguerrita con la fiction Il Capitano Maria con Vanessa Incontrada che debuterà questo lunedì 7 maggio su Rai 1 La nuova fiction ha tutte le carte in regola per ottenere un boom di ascolti clamorosi e quindi anche per questo motivo è stato meglio far tornare in onda il GF 2018 di martedì sera Intanto il Ladurso si gode il suo periodo d'oro dal punto di vista televisivo Gli ascolti del Grande Fratello 2018, infatti, sono a dir poco positivi con una media che la scorsa settimana ha sfiorato i 5 milioni di spettatori e superato il 27 di share Un vero e proprio trionfo per il reality show di Canale 5 che non vedeva questi risultati d'ascolto da un bel po' di anni A questo punto, però, bisognerà vedere se dopo la polemica per la squalifica di Bai e Dame gli ascolti continueranno ad essere positivi in questo modo oppure si andrà incontro ad un inevitabile calo di spettatori Ecco cosa succederà nella quarta puntata del GF 2018. Intanto Ladurso e tutti gli autori del GF 15 si stanno preparando per la quarta puntata in diretta di questa settimana Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno un bel po' di confronti tra cui quello di Patrizia che questa settimana ritornerà in casa per parlare con Mariana dopo aver scoperto che la ragazza l'ha nominata a sua insaputa Insomma i colpi di scena anche questa volta non mancheranno Insomma i colpi di scena